Take my hand Go ahead Play my game Buooooooooooon A tutti Perché in questo caso sarebbe stato appropriato Inappropriato Cioè Insomma mi avete capito Salve a tutti ragazzi Splende un sole Abbaiante in quel Del papo a Nuova Guinea Sì molto probabilmente Perché qui sono le 19.32 Di sera ovviamente E oggi Essendo io non andato a scuola A causa di un'inconvente visita medica Direi che sono felice E dico che è proprio questa L'occasione per Passare a lui Il mio bellissimo adorato amico ciccio pasticcio Che viene subito dopo il box Di ex precedenta Che non è un bel ciccio pasticcio Assolutamente il contrario Adesso noi lo apriamo Anzi io ti apro Mettiamo un mi piace per questo Io ti apro Perché è bello Quindi volta scartare un box È un piacere Ah Danneggio alla peppina Apriamo Ah cacchio Ah qui non c'è un box stopper Ecco qua Bellissimo Bellissimo Oserei dire Bellissimo Guardate quanto è bello Mamma mia I brividi Oh i brividi Buttiamo qui Yeah Guarda si vede la lingua Si è vista la lingua? Molto probabilmente Ma Non credo che sia Quello che vi interessa Perché voi volete vedere L'apertura di questo Magico box Uno Due Sì sono Tre E quattro Di design Sappiate Anzi sappi Che confido molto In te box Quindi Cominciamo immediatamente Li mettiamo a posto Ah Che bello Che bello Che bello Mamma mia Che bello Guardiani di cristalli Mi è sempre piaciuto sto set Perché ha delle carte Stupende Meravigliose Meravigliose E cominciamo immediatamente Col pacchetto di Girashi Di Si di Girashi Cominciamo Abbiamo Pokéball Non so il trick Mi dispiace E sempre Volevo dire una cosa del genere Molto probabilmente Anche per questo box Sono il primo italiano Ad aprirlo Quindi Un altro pollice in su Per favore Grazie Non so il trick però Però vedo già qualcosa O è la reverse Non lo so Pokéball Wartortle Wartortle reverse Wow 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 C'è risardolo Macchi Torchic Numel Diglett che sta per essere ucciso Da un'onda anomala Poverello E N'Electrike Cacchio Inizio scoppiettante 5 6 7 8 9 Le prime due da davanti E' il trick Reverse è normale Ottimo direi Ottimo proprio Blazing Questi qua Mi ritengo perché Cacchio Ricordatemi di prendere un blazing Anche se non potete Anche se non potete Oh cacchio 1 2 3 1 2 1 2 Mettiamo qui Mi sa che ho visto un'altra cosa Interessante Vedeteci tantissimo Ivysaur Wow 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 Nazif Pulbasaur Wismur Squirtle Trico Aaron Sostegno di Bill Rivers E Oh 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 Bello 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 si perché Sempre Blastoise Però io questo ce l'avevo già Quindi I I trade for it I trade for it Yeah Questa è una pronuncia un pochino più accettabile Charizard Uff Ancora mi tremano le mani Per aver aperto questo corso Wow Tarada 1 2 1 E 2 Molto probabilmente Le appoggerò qua La riversa E la rara Perché sono troppo scivoloso Oppure faccio così Se non vi dispiace Charmeleon Leron Ok Sidot Makip Duskull Lotad Squirtle Che surfa È proprio bello Questo Trigo Reverse E Oh oh L'altro Blastoise Che mi manca Quindi me lo vengo Molto volentieri Mettiamo le olografiche Le rare Da questa parte E il resto qua Delchetti L'ultimo design Mannaggia Mannaggia e mal di gola Io dico Quest'anno Da quando è cominciata la scuola Che rende mal di gola Mannaggia 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 Oh E questo è curioso e affascinante Non sono uscito Da prima Oh Ha distrutto del Chetti Per lui Ok Non ho fatto il trick Ma Nazif È andato Però tanto È da con un comune Tanto più Già posseduta da me Medesimo Mettiamo bene Aspetta eh Ah direi ottimo Aspetta Non è per niente Ottimo Ti vedi? Sì si vede Nazif Con Baskin Crabby Mudkip Lotad Duskull Ah bello Mi è sempre piaciuto Stare sta carta Mannaggia Trico Specie delta Ricerca di energia reverse Au No Non può andare Come l'ultima volta Va bene? Quindi Facciamo che questo sia un caso Apriamo Amico Fritz Charizard Ah perfetto Cavolo Quindi questo va Nella top ten Degli aperti Perfetta Dai No Si è aperto in quello strano modo come Ah vabbè Risolto Buttiamola Uno due Uno due Ok Oh Network di Ceglio Naufrago Guarda quante Cioè è veramente bella questa carta Molto in Diglett Impaurito Bulbasaur Charmander Aaron Squirtle Bello Bacca di memoria reverse Bellissima E Iggy buff Bello Mi gusta Ok Mettiamo qui Siamo a 6 minuti e 41 Non mi faccio la sinistra adesso Ecco qui Con un blazing hand che dobbiamo aprire bene E mannaggia ma credo che sia proprio duro eh Ce ne abbiamo tanti dai Ok Uno due Uno due Ok Warp point Detto anche Punto di curvatura Poken half Torchic Spoing Wingle Numel Che si è accorto che lascia delle orme Mudkip Oh mamma mia Charizard Holo reverse E Gramping Che Vabbè Ottima carta direi Andiamo con un giraci E Vai 735 Arriviamo a 10 minuti Poi stoppiamo Ok Uno due Tre Uno due Buttiamo qui Ok Ivysaur Bello Scusate Skitty Skitty è non comune Duskull Bellissimo Aaron Charmander Electric Bulbasaur Medician Reverse Bello Bello proprio Oh Maywai l'holo Bello Vedi Ci sono anche questo tipo di olografiche Questa cosa mi fa impazzire Questo set che è misto È promiscuo Bello 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 Buttiamo qua Oh Due holo reverse Ottimo Come si dice Two is magic one Ok Adesso Questo qua 22 Quindi Mamma mia Questi pacchetti volano proprio Vedi Blaziken Niente Non ci rammarichiamo Voglio trovare una qualcosa di ottimo qui in questi pacchetti Ci si può per favore Torchic Spoink Meditate Oh bello Social Armander Mamma mia È stupendo Diglett Sempre lui Bacca memoria Ma che ho fatto Bo Ivisaur Stupendo Swalot reverse Con una bocca enorme E Swalpert Però mi sa che questo qua ce l'ho già Andiamo con del cap Ok 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 Frammento misterioso Nazif Della serie Di questa prima parte Speriamo di trovare qualcosa Dai Ce la possiamo fare Ok Schuppet Spiaggia dei cristalli Bellissima Jigglypuff Che Boh Non saprei che dire Lotta Charmander Torchic Meditate Wismu reverse E No Un altro Gramping No Non può finire così Non può finire così Delchetti Aiutati Poi basta però 1 2 3 1 E 2 Come finisce Finisce Marston Cerchio di Olon Stupendo Cacnea Bulbasaur Squirtle Electrike Trico Stupendo Dusculo Reverse E Kingler No Questa ce l'ho Però è una bella carta Finiamola qui Perché se no La seconda parte Me la spolpo tutta adesso Quindi niente Arrivederci E alla prossima Ciao E mettete mi piace Anche se non l'ho detto Già 8-9 mila volte prima Ma mettetelo Ciao ciao